Direi di partire da Lecce-Milan, che è stata l'ultima partita, tu appunto eri a seguire la trasferta dei rossoneri Che cosa succede nel secondo tempo al Milan? Perché è stato magari un po' un mezzo blackout stile Maradona Stile Napoli-Milan, dove il Milan sembrava aver già ipotecato i tre punti nel primo tempo Poi dopo nel secondo è andata bene aver portato a casa il punto, visto come si è poi messa Tra il palo incrocio di Sansone sul colpo di testa, il gol annulato a piccoli e all'ultimo su questo check del VAR Che ovviamente ha fatto discutere, però strano comunque che ci siano questi blackout anche nei secondi tempi Come te lo spieghi? Strano, non è la prima volta Se te lo spieghi A Napoli-Milan è andato giù nel secondo tempo, a Parigi è andato giù nel secondo tempo In qualche modo con la Juve, ma lì c'è un'espulsione, però anche lì va giù nel secondo tempo C'è una spiegazione forse tecnica e una psicologica Ha detto che entrare nella scatola nera è impossibile perché la scatola nera l'hanno accesso forse Pioli e i suoi Fai fatica a capirlo, a me sembra però che ci siano abbastanza evidentemente due situazioni Una tecnica, Pioli quando arriva in conferenza stampa parla di frenesia Che è esattamente la cosa che mi aveva colpito Il Milan tende sempre a giocare questo calcio di ripartenze Io ti do un pugno, tu mi dai un pugno metaforicamente Quindi io attacco di là, magari 5 contro 4, perdo palla Situazione pericolosa di là E questo ti porta a avere sempre un possibile cambiamento nel punteggio Quindi non è mai... Pensava, Allegri in quella situazione sarebbe strappato la giacca, la camicia e anche la cravatta Invece Pioli più o meno sa che funziona così Non gli va bene, però in fondo la sua squadra la conosce Il Milan anche col PSG fa quella partita perché può giocare colpo su colpo col Pari E giocarsela sul ritmo, sulle occasioni A Lecce evidentemente non è riuscito a fermare proprio il flusso della partita che andava verso il Lecce Compice alcuni errori individuali Una sostituzione musa per Calabria che evidentemente non funziona Quindi sbagliata, se no di poi è facile dirlo Gli episodi, però il Lecce merita assolutamente di pareggiare Il Milan concede tante occasioni e prende due gol Proprio perché fa fatica a bloccare il corso della partita Quello che la Juve riesce a fare mettendosi dietro Quelle che altre squadre riescono a fare col palleggio Il vecchio Berlusconi diceva sempre Bisogna tenere palla quando in situazioni di difficoltà Pretendeva che il Milan tenesse palla proprio per raffreddare Mettere del ghiaccio nella partita E non far passare i minuti così freneticamente Il Milan questo non riesce proprio a farlo E poi c'è una spiegazione psicologica Che vuoi deriva dal fatto che il Milan probabilmente Non ha dei veri leader Delle vere guide all'interno del campo Chi è il leader del Milan? Il primo nome che mi viene in mente è Mike Mignan Ma sai che infatti a proposito di questa roba qua Io ho la sensazione che siano tornati fuori un po' Gli stessi fantasmi o comunque gli stessi problemi del pre-Covid Cioè quando si parlava di una squadra Che comunque potenzialmente potesse avere tanto da dare Tanto da offrire, tanto da sbloccare Poi però magari per una questione mentale Per una questione di mancanza di leadership E di leader dentro lo spugliatoio Era una squadra che rimaneva sempre un po' Ferma su se stesse Che di fatto non cresceva È un caso ovviamente diverso Perché anche quest'anno qualche bella prestazione Il Milan l'ha fatta Vedi per ultima comunque quella in casa contro il Paris Saint-Germain Però forse la mancanza di leader Manca poi anche nella maturità E nella capacità anche di andare a gestire certe partite Perché poi ci sono certi momenti della partita Quando sei comunque 0-2 contro il Lecce È una partita che deve andare in ghiacciare In cui tu magari puoi andare a cercare il terzo gol Ma magari lo fai gestendo di più il pallone Facendo più correre a vuoto la squadra avversaria Invece che continuare sempre a rispondere pugno su pugno Come appunto hai appena descritto molto bene tu Tant'è che poi i problemi si sono risolti molti Anche con l'arrivo di Ibra C'è un giocatore che arriva Comunque maturo, esperto Un leader carismatico Che comunque ad allenamento Tira su comunque il livello di allenamento Anche dei più giovani come poteva essere Leao Che lo vedono E quindi vogliono fare comunque anche bella figura Perché vogliono stare a livello di Ibra E adesso che tornavi a Ibra paradossalmente Sembra essere tornati magari un po' a quella situazione lì Allora, secondo me ci sono dei rischi che tu decidi di correre Io non so che calcio ti piace Sei allegriano o anti-allegriano? Ma guarda Sì, ma dipende Nel senso che Perché questo dice già tanto Il Milan Io ti parlo dell'altro giocatore che arrivò quell'inverno Che è Simon Kier Perché Ibra lo vedono tutti Kier magari un po' meno Però il Milan in quella situazione prende anche un leader difensivo Che non arriva per fare leader difensivo Ma lo è perché ha quel tipo di spirito Che poi vedi anche nell'episodio Ericsson Tragico Quindi il Milan mette dentro un giocatore di quel genere Che ti fa leadership Ti guida Ti ha sicurezza Se c'è bisogno di abbassarsi e difendere È esattamente quello che piace a lui E dove lui si trova bene Adesso il Milan ha fatto altre scelte Che già ai tempi faceva Perché onestamente il trend è chiaro Dall'era Elliot Redbird Il Milan adesso è un club Che vuole prendere giocatori giovani Con margini di crescita Piuttosto si prende dei rischi Piuttosto li aspetta Però poi vuole giocatori forti In due anni Diciamo In tre anni Per poi O farli diventare colonne della propria squadra O anche venderli Senza Senza problemi Perché questo è successo E succederà di nuovo Certo Quando prendi giocatori così È chiaro che fai fatica A controllare le partite È più facile che tu abbia degli alti e bassi Sarebbe stato più semplice In quest'estate Prendere un giocatore Alla Kier Quindi un 30enne Un 28enne Un 32enne Che ti desse una mano lì Hanno scelto di non farlo Ed è un rischio calcolato E si prendono le critiche Come è giusto Però è una scelta È una scelta netta Come è una scelta netta Quella di non prendere Ad esempio un dirigente Ora sta arrivando Ibra Però loro in estate dichiarano Di mettere Milanello Nelle mani di Pioli Dicono Maldini non c'è più Massara non c'è più Due dirigenti che stavano a Milanello Tutti i giorni E tutti i giorni parlavano Con i giocatori Con l'allenatore Insomma Maldini e Teo Hernandez Devono aver fatto dei discorsi Piuttosto spesso Negli ultimi due anni Adesso magari ci sarebbe bisogno Di qualcuno Che fa questo Però è una scelta dichiarata Magari correggeranno qualcosa Con Ibra Però sono andati in quella direzione E continuano ad andarci Sapevano secondo me Dall'inizio di prendersi un rischio Forse l'hanno sottovalutato Però è voluto È un piano societario Non è casuale Che vada così Tu tra l'altro Un paio di anni fa Se non sbaglio Al Festival della Gazzetta Che ne parlavamo anche a pranzo Hai intervistato proprio Maldini Sì Insieme a un vice direttore Della Gazzetta Gianni Valini È vero che Lascia un vuoto importante O quello che descrivono O pensi che sia sopravvalutato Diciamo anche Per quello che è la sua ruola Penso che Fossero due mondi Che non potevano coesistere Nel senso che Possono coesistere A certe condizioni Se però Maldini Allora Maldini Evidentemente Ha sempre ritenuto Nella sua vita Di voler fare Quello che pensava Fosse giusto Senza Dover troppo Dividere il timone Del comando Lui ha sempre detto Se tornerò al Milan Tornerò Quando mi chiameranno Per determinare Quando torna Assolutamente determina Prima con Leonardo Poi con Boban Poi con Massara Quindi più o meno In prima persona Determina Se c'è un acquisto da fare Lo decide Maldini Con Massara Se c'è una scelta da fare Sull'allenatore Lo decide Maldini Con Massara Non c'è tanto compromesso In questo senso Quindi una società Che voleva andare In un'altra direzione Io credo che noi Non sbagliamo molto Dicendo Che se fosse rimasto Maldini Il mercato sarebbe stato Qualcosa di simile A Milinkovic Savic Berardi Per capirci Che sono due giocatori Ultra trentenni O vicini ai trenta Due giocatori Con una grande esperienza Di serie A Due giocatori Che tra quattro anni Non rivenderai A un prezzo più alto Di quello che tu stai pagando Per averli Certo sono pronti subito Certo Da Messias a Berardi C'è un salto In alto chiarissimo Da Non lo so Krunic A Milinkovic Savic C'è un altro salto Importante C'è un salto chiarissimo Prendi e dai Prendi e dai La società Questo Era assolutamente In antitesi A quello che volevano fare Non per caso I giocatori I giocatori di Redbird Che hai visto Sono o giocatori Con contratto 2024 Presi nel 23 Quindi a sconto O giocatori giovani Esperimenti Pellegrino In un caso Però giocatori che provi a prendere Per far crescere Maldini In questo Aveva un'idea diversa Di conseguenza Le due cose Fanno fatica a stare insieme Fatti fanno fatica a stare insieme Per tutto l'anno Poi alla fine Si decide Di andare per strade diverse C'è un vero e proprio Licenziamento Da parte di Cardinale Che alla fine decide Anche per l'ego di Maldini Che era molto ingombrante Di conseguenza Sono due progetti diversi Maldini comunque Ha dalla sua Dei risultati importanti Lo scudetto La semifinale Di Champions League Il secondo posto Dell'anno precedente Un grande percorso Di crescita È chiaro che L'ultimo mercato Non è stato All'altezza dei precedenti È vero Il mercato è negativo De Chetelare Orighi Ciao bene Però anche Vranx Però anche Tutto il monte In gaggio Messo su Orighi De Chetelare Tutto il monte Cartellini Messo su De Chetelare E sono operazioni Che non funzionano Per cui Poi lasci anche Con quest'idea Di ho sbagliato L'ultimo mercato È vero Sì lascio un po' Con quel ricordo Però probabilmente Sono anche più I risultati buoni Che aveva portato Invece La presenza di Ibra È così Importante Attesa Perché Attesa sicuramente Anche qua ripeto Tra l'altro ne parlavamo Qua al tavolo Le scorse puntate No Anche io Dicevo Secondo me Il Milan Dovrebbe staccare Forse un po' Il cordone umbilicale Rispetto A Ibra Perché sembra Che adesso Lui Sia sempre Un po' Quello Che viene a risolvere Sempre tutti i problemi Cioè L'ha fatto Appunto Durante il periodo Covid Da cui poi è partito Il ciclo Verso lo scudetto E insomma Adesso Alle prime Perché poi La cosa che Secondo me strida È proprio quello Che dicevi tu Prima Cioè Scelta di Comunque Mandarvi a Maldini Perché c'era Questa ingombranza La sensazione Che è molto più Di una sensazione È proprio quella Di mettere Comunque al centro Pioli Passano pochi mesi Ci sono delle difficoltà Evidenti E sembra che tu Abbia Già messo un po' In discussione Questa tua scelta Sembra che tu L'abbia già Un po' Ripensata Come se ti fossi Magari Rimangiato qualcosa Più che altro Perché io L'ho sentito Dire da qualche Esperto Anche in televisione E io sono d'accordo Condivido Secondo me Questa scelta Di riprendere Ibra Di riportare Ibra In questo momento Vedendo anche Come sta andando Il Binal Vedendo un po' La confusione Di Pioli Vedendo un po' Le difficoltà Che ha la squadra Io lo vedo anche Un po' Come un ridimensionamento Dell'allenatore stesso Cioè Come se lui Avesse comunque Sempre bisogno Di questo ausilio Di Ibra O comunque Del consiglio Di Ibra O comunque Di una figura Che magari Possa essere Un po' Più autorevole Cioè Come a voler dire L'empatia Che si era creata Tra Pioli E lo spogliatoio Del Milan Era un'empatia Che magari Forse era più Dettata dal Ibra Che cominciava A essere molto acciaccato E quindi Era più già Nel dietro le quinte Che in campo E che quindi Permetteva di mantenere Questa empatia Tra staff tecnico E giocatori E nel momento In cui Ibra È andato via Vedi Giroud Che risponde male All'allenatore Quando viene sostituito E ai microfoni Dice non sapevamo Se dover difendere O attaccare Che secondo me Sono dichiarazioni Abbastanza gravi Che poi uno esperto Come lui Forse poteva anche Risparmiarsi O comunque Dosare meglio Vedi un layout Che comunque Reagisce male Quando viene sostituito Vedi un Calabria Che viene subito Ripreso E bacchettato Dallo stesso allenatore Su dichiarazioni fatte Dopo il 3-0 In Francia Contro il PSG Insomma Non lo so La sensazione È che venga anche Un po' ridimensionato Pioli Cioè questa qua È un po' la sensazione Che io ho La percezione Che io ho Mettiamo lì alcuni fatti Il primo fatto È che il club Ha sempre difeso Pioli Quindi in realtà Una delegittimazione Non c'è stata Nei fatti Chiaro che L'interpretazione Di Ibrahimovic È un po' A supporto Di Pioli Ma Pioli Lo ha sempre detto Può darmi una mano Pioli Secondo me Se si trovasse a parlare Con un giocatore Come Ibrahimovic Alla fine di una partita Per trarre delle conclusioni Per la partita successiva Sarebbe felice La seconda cosa È che Lo spogliatoio Comunque non ha In questo momento Esternato A parte questi episodi Che ci sono E sono assolutamente presenti Però Un totale Abbandono Garzia A Napoli Era chiaramente Più delegittimato Dalla sua squadra Chiaramente più In frattura Con la sua squadra Quella di Giroud è vero È una frase Che stona molto Anche se io credo Che lui Da quello che abbiamo capito Perché chiaramente Poi abbiamo parlato Con le persone In quei giorni Cercando di capire Credo fosse riferita Più alla squadra Cioè siamo noi Che non sapevamo Se difendere o attaccare È vero che l'allenatore In questo è chiamato In causa Però non era Secondo me Un attacco diretto Invece Era più la lettura Dei giocatori in campo Esatto Invece Erano più Chiaramente Due proteste Alle sostituzioni Di Leao e Giroud È chiaro che è tutto In questo momento Un po' su un filo Può girare in un modo Può girare nell'altro Il rischio che giri male È assolutamente presente Più che in passato Si vedono alcune cose Che non vanno Evidentemente Però la partita col Paris È di tre giorni fa Tu mi dici Ok i giocatori Si possono motivare Da soli Perché c'è Mbappé Perché c'è il Paris Saint-Germain Perché c'è una qualificazione Champions Da conquistare Questo è vero Però una squadra Una partita giocata Da una squadra In quel modo È difficile che arrivi Quando c'è una rottura Con l'allenatore Quindi il Milan Per il momento È razionale Ci pensa a freddo Va avanti con Pioli È chiaro che Gli allarmi Sono suonati Noi oggi Sulla gazzetta di oggi Parliamo molto Degli infortuni Che sono secondo me Il vero grande tema Perché poi da quello Dipende tutto il resto Se tu fai caso Il Milan titolare Che è quello Che Pioli sceglie Di allenare da luglio Io sono stato Con loro in America Lui prende una formazione La fa giocare sempre E sono sempre quegli undici È la formazione Con cui il Milan Parte forte Vince tre partite subito Va in testa La classifica E più o meno È la squadra Con un Musa in più Che batte il Paris La scorsa settimana Quindi quando giocano quelli Tutto sommato È sempre andata bene Il problema è quando Devi cambiare Ma gli infortuni Fanno tantissime Cioè Perché ovviamente Oltre che toglierti Il tasso tecnico Proprio della squadra Perché te lo abbassano Perché è inevitabile Anche perché adesso Davvero gli infortuni Sono andati ad intaccare Anche i giocatori Più importanti Del Milan Pulisic Loftusci Che comunque ci ha fatto Vedere quant'è che sposta In mezzo al campo Lo stesso Ciuquese Che comunque Vai a perdere Pulisic Poi dopo Perdi anche Ciuquese Quindi poi devi cercare Anche delle alternativi In quella posizione Sabato si è fatto Maia Leao È uscito Leao Quindi Sei È stato anche Abbastanza sfortunato Il Milan Da questo punto di vista Cioè gli infortuni Sono andati proprio A prendere anche I giocatori forse Più determinanti Più importanti Quindi questo è un qualcosa Che secondo me Sposta tanto Ed è sicuramente L'attenuante Più grande Che ha Pioli È stato secondo me Bravo e onesto lui Nel dire Forse non è tutta sfortuna Cioè nel momento in cui Succedono così Ripetutamente Probabilmente C'è anche il caso Che forse qualcosa È stato sbagliato Cioè Anch'io comunque Da tifoso Juve Negli ultimi anni Ho visto quanto Magari Andasse Andasse a spostare Il fatto che In una rifinitura Pre Champions Si facesse male Da Gas Costa O Di Bala Insomma E quelle cose Ti spostano Ti spostano Paracchio Anche mentalmente Come nello spogliatoio Cioè Se sei già magari In un periodo In cui sei un po' Traballante In cui le cose Non funzionano bene In cui la squadra Magari è un po' Debole anche mentalmente Se in più vedi Che comunque I giocatori più importanti A turno Sono costretti a uscire C'è anche un po' Il rischio Di peggiorare tutte le cose Juve così perde Una delle sue grandi occasioni Che io È il mio primo anno La Juve 2018-19 Con il ritorno Con l'Ajax Io raramente ho avuto L'impressione Di una squadra Così inferiore Atleticamente Juventus perde Mandzukic Perde 4-5 Giocatori Douglas Costa Poi Allegri Mette in panchina Cansello Credo che Lini Perché mi ricordo Rugani titolare Quella partita Direi di sì Assolutamente Che non rientra in tempo Poi gioca di Sciglio In un Cansello Che magari Scelta discutibile Però l'Ajax Nel secondo tempo Proprio Controlla la partita Atleticamente Totalmente Quella era un'occasione Grossa per la Juve Ne parlavamo prima A novembre Juventus Se non è la squadra Più forte d'Europa Ci va molto vicino Poi ha questo tracollo Con gli infortuni Con i problemi Anche allora Una stagione segnata Dagli infortuni Totalmente Veramente troppi Pioli non può Chiaramente non poteva dire altro È troppo evidente Non può essere solo sfortuna Certo che è difficile Capire che cos'è Sui social Sì Sui social c'è un attacco Clamoroso Al preparatore Ovviamente Che può essere Assolutamente Che è successo infatti Anche alla Juve Magari è anche troppo facile Poi dopo liquidarla Così no? È colpa del preparatore Sai È una cosa che da fuori Facciamo fatica a dire Onestamente È chiaro che Lì bisogna andare a guardare Per capire se c'è un problema Diciamo che è un indiziato Fossimo a CSI Sarebbe il primo Che vanno ad analizzare Prima che vanno a controllare Esatto Però da fuori Difficile Non hai accesso agli allenamenti Non hai accesso ai campi Non hai accesso alla condizione Ai dati Dei GPS Dei giocatori Fai fatica Per dire Un tema interessante Secondo me È lo stile di gioco del Milan Il Milan gioca Un calcio di duelli Di uno contro uno Di scatti A lunghi Il Milan gioca Un calcio dispendioso Molte volte i giocatori Devono rientrare O sprintare Anche per 30-40 metri Probabilmente alcuni Alcuni lo riescono a fare Altri vanno un po' Fuori giro In un certo momento Si fanno male Il modo in cui ci si allena Può essere Può essere i campi di Milanello Io ho chiesto anche Per fare degli articoli Esperti Vincenzo Pincolini Che è stato il preparatore Il preparatore atletico Del Milan di Sacchi E delle nazionali Ha fatto nazionale A Nazionali giovanili Fino allo scorso anno E lui per dire Dice Io quando ho tanti infortuni Calo i ritmi di allenamento Che è il contrario Di quello che si potrebbe pensare Perché se forzo Mi si fa male Ancora più gente Allora abbasso Quindi cerchi di abbassare un po' Abbasso il carico Perché forse sto lavorando troppo E poi lui dice Una cosa che dicono tanti Che magari è poco fashion Però lo stress Tanti dicono Lo stress è una grande causa Lui dice Al Milan ho visto Proteste contro l'allenatore Giocatori nervosi Lo stress Nella vita personale Anche dei giocatori E nella vita di calcio È una grande causa Di infortuni Chiaro che per noi È un po' strano pensare Che se sta male Il tuo padre E ti stai lasciando Con la fidanzata Più probabilmente Ti fai male Però è così È così È studiato E quindi anche in questo Però il Milan Ha 24 infortuni La Juventus ne ha 10 L'Inter ne ha 7 Quindi c'è una tale sproporzione Che c'è chiaramente Qualcosa di diverso Sì no Volevo rispondere al crack Che comunque L'ha chiesto L'ha chiesto anche in chat Cioè come si spiega Un po' questa situazione Abbiamo provato a dirlo Anche adesso Ma magari ci possono essere Tanti fattori Quello mentale Forse è quello che viene Meno menzionato Forse è quello di cui Si parla meno Però effettivamente Potrebbe esserci Anche un fattore Proprio psicologico Che poi dopo ti va Anche ad influenzare Quella che è La performance atletica E di conseguenza Magari si incappa In qualche In qualche infortunio in più Grande tema Da economisti In 10 secondi La tournée estiva Pincolini diceva anche questo E non serve lui per dirlo Perché è abbastanza evidente Il Milan si trova Il 10 luglio Il 21 luglio È già negli Stati Uniti E poi fa quelle tre amichevoli Con Real Madrid Juventus e Barcellona E chiaro che hai cominciato Subito al massimo Più di così Non voglio dire che Bisogna fare come negli anni 80 Quando giocavi contro i Monti Palli Della Solbiatese Il Barese E poi arrivavi A fare una partita Col Parma Però può essere C'è una via di mezzo Però Sicuramente ti espone A dei rischi Chiaro Hai sponsor La visibilità internazionale Hai il denaro Della tournée Degli sponsor Hai un'atmosfera Molto cool Con i giocatori Vanno a Los Angeles Sono contenti Però Rischi di farti Rischi di farti più male Probabilmente Non ti voglio dire Che è stata questa la causa Ci mancherebbe Anche la Juventus Ha fatto la stessa Identica tournée E ha 10 infortuni Non 24 Però una componente È questa Bisognerebbe onestamente Andare a vedere Come si allena il Milan E non lo possiamo fare Lo possono sapere Soltanto loro Onestamente Ultima domanda Sul Milan Ultima questione Stavamo parlando Un pochino prima Nel dietro le quinte Adesso c'è un po' Il filone Del più all-out Al Milan È solo che Magari le alternative Non sono neanche così Scoppiettanti O comunque Forse è sempre Troppo semplice Andare sempre Ad approssimare Sull'allenatore Sull'unica persona Sull'unico colpevole Come la vedi tu Il Milan Ce lo dicevi anche tu Che è stato chiamato Sotto C'è stato un mezzo Rifiuto da parte Di Pioli Che ha un po' Sì Quello non lo vedrei Come un fatto così centrale È vero che la squadra Va sotto la curva A Lecce Pioli resta Qualche decina Di metri più indietro 10-15 metri Pioli Alza le braccia Per fare una specie Di applauso Di saluto Qualcuno ha detto Chiedere scusa A me sembrava Onestamente più Un applauso Che il classico applauso Alla curva Per il sostegno Però vabbè Sono dettagli Sostanzialmente Resta più lontano E viene criticato Anche per questo Il fatto più importante Però è che la curva Abbia fischiato Già la partita precedente A Lecce Gli audio Di quel confronto Molto rapido Quei tifosi Sono molto Chiaramente di protesta Fischi Giocatori attaccati 2-0 Come per dire Non si può Perdere da 2-0 La curva Chiaramente ha abbandonato La squadra Abbandonato Non nel senso Che non tifa Perché tifa Però ha una posizione critica Certo Questa è una posizione critica Rispetto a una posizione Di sostegno In generale Pioli in Pioli out Sono discorsi Che tanto si leggono Talmente tanto Mi viene da dirti Una cosa Che è di estrema attualità Che riguarda Tudor Che per certi versi Era stato nominato Tra i nomi fatti Mi sembra Quello Più sensato Non perché Il Milan lo abbia contattato Il Milan non ha contattato Nessuno Il Milan è rimasto Con Pioli Lo ha difeso E va avanti così Però perché Aveva un senso È un allenatore Che gioca Un calcio abbastanza simile Anche se usa La difesa a tre Però un calcio Con certi concetti Simili Non per caso Pioli e Gasperini Non sono Molto diversi Hanno molti punti In comune E Tudor È comunque Un allenatore Che viene da Juric Che viene da Gasperini Quindi insomma Ci sono dei punti di contatto Sarebbe stato un allenatore Magari disponibile A fare sette mesi E poi Rivalutare la situazione Non so cosa succederà A Napoli oggi Con Tudor Però certo Quel nome era più sensato Di altri Sono discorsi puramente miei Puramente di ragionamenti miei Perché Alcuni allenatori Mi stavano più lontani Da Pioli Altri come Conte Sembra Vogliano aspettare giugno Per tornare Esatto Di conseguenza Lì non si andrà Vediamo Da capire Fiorentina Borussia Adorno Quelle sono partite importanti È vero È vero Da capire Sicuramente Gli sviluppi E l'evolversi Delle cose È vero